Ciao! Non c'è tanta strada, eh! Il trenino delle grotte, bellissimo! Ah, vedi, ma guarda lì che parco! Che bella rietta! Guarda il lago! Ah, finalmente! Non è che cale! Non è che cale! Che bella, perché si cale, si cale, si cale, la gloria... Ma non hai mai preso questo trenino? No! Ma non hai mai preso questo trenino? sta durando un po' troppo ciao siamo arrivati si ferma un po' qua? si, si ferma, dobbiamo scendere, è vero? e lì c'è l'ingresso delle grotte le famose grotte di Catullo che lunedì sono chiuse io non lo interrompo hai lasciato lì roba bello diciamo che è stupendo è bellissimo Sirmione, grotte di Catullo questo è finito la batteria che vedrà grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.